Per il giornale 2517, Orte e Fiumicino e Rapporto. Ritorno. Siamo alla stazione di Settebagni. Per fortuna devo vedere il bagno. Tre. I bagni sono tre. I treni non è questo. Un bagno. Si tremola questo treno. Ecco, partime e partenze da più vicino a queste pietri molto centrali. Milano. Oh oh, senti bene. E' rotto. Un bagno. Eccolo. Ecco un bagno. Ho visto un bagno. E' qui. Questo era il Fideni. Ok. Fideni troppo lontano. Un euro. Russolini. Questa è troppo forte dei volumi. E' un buon futuro. A meno, un bel angolo. E' un buon futuro. E' un buon futuro. Ma non è tranquillo. Ma non è tranquillo. Ma vengono. C'è un bar, mi compri altre cose. E' un bar. Mi guarda che compro solo un'alteacqua. Ci so senti. Ci senti? Siamo in arrivo a Delay. Ammai. Ammai. Grazie a tutti. 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 Ecco... 10 a 100 Ecco... ...eco... ...eco... ...eco è spento Sicuramente... ...fiche qui 12... ...quì ... ... ... ... ... Grazie.